bravo perché insomma si è venuto fuori dalla partita non facile, il stragazzo gioca parecchio bene nessuno se l'aspettava perché l'altro si conosceva il junior australiano australiano, ecco, l'anno scorso allora, cosa ti raccoglisci di più dalla parte? non hai detto tu poco qua, non ho giocato benissimo, però insomma poi i momenti decisivi la differenza c'è stata e cosa ti porti avanti da questa partita? Cosa ti porti dietro? si, hai detto bene, non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso e allo stesso tempo non ero mi ha sorpreso ovviamente in positivo, io non sono riuscito a partire con la stessa determinazione dell'altro giorno, però l'ho accettato, sono andato avanti, ho trovato la maniera di far funzionare il mio tennis nonostante i miei colpi non fossero così incisivi, soprattutto il dritto però mi porto dietro il fatto che mentalmente sono in una fase della mia carriera in cui riesco a riconoscere quello che sta succedendo e sono molto molto lucido, riesco a non farmi prendere troppo dalle emozioni e grazie all'esperienza di tutti questi anni alla fine la sto portando dentro al campo quindi nonostante appunto non abbia giocato la mia miglior partita di sempre sono riuscito a portare qui sotto a casa con un ragazzo che gioca molto bene e che tra poco salirà al ranking probabilmente il prossimo anno sarà qui da top 100 quindi bene così la cosa più importante è portare a casa il punto quando si è chiamati a giocare e adesso il tempo per Flavio ciao 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 e appunto parlato di Flavio eravamo l'altro giorno di quel video di voi bambini adesso si diventano grandi ieri sera quando Flavio si è chiamato non so che è stato aggato è stata la vigilia è stata ovviamente emozionante per lui, per me per Stefano, il padre ricordo il mio esordio era un po' diverso in India quindi avevo un supporto un po' diverso ma è sempre un esordio e l'ho abbracciato e gli ho fatto come si fa con i bambini con i suoi capelli e ho detto sono veramente contento che sei arrivato il tuo momento sta facendo una stagione pazzesca un lavoro pazzesco e quindi ce lo merita e tra tutto questo poi lo sa bene anche lui che bisogna divertirsi, bisogna godersela però la cosa importante è dare tutto è quello che sta facendo è stata una lotta e quindi è bello, sta emozionando Ciao Matteo Ciao ma non è che ti senti il vecchio un po' della situazione qua ti trattano con il spesso oppure tu intanto ci pensi che il più di inizia non è passato all'insegno sembra, sembra, sembra questa sensazione che lo fida di che il suo successo è vivante la velocità con cui spesso al di là delle battute la velocità con cui viviamo tutto quello che viviamo le lunghezze delle stagioni l'intensità dei viaggi del fuso orario del cambiamento veramente quando penso all'India mi sembra una vita fatta sono successe tantissime cose belle mi è cambiata la vita in mille maniere e quindi però la cosa bella secondo me che ho visto mi hanno dato un video di miei genitori che risultano al match point e hanno risultato come non so forse come una prima vittoria di sempre e questo è il motivo per cui gioco a tennis è il motivo per cui ho scelto di fare questa cosa qui per portare le persone che mi vogliono bene con me e per le emozionare emozionarmi io insieme a loro e quindi sì mi sento un pochino il vecchietto della squadra anche se se vuole non cambia mai lo guardo il tuo genere il tuo pole ma puoi invecchiare pure tu o continuiamo sempre uguale io invece ho visto le foto del passato qualche annetto che mi hanno messo su però speriamo anche di esperienze ciao uno gli apporta bene? è andato bene l'inizio? dai beh allora facciamo così vai fatto fatto vai fatto pronto voi giocatori oggi interessanti il tuo giudizio se sei molto contento abbastanza contento o giustamente contento in questa fase cruciale non svolto non svolto dalla tua carriera come lo giudichi questa quarto poloniese sono molto contento molto contento perché alla fine sono due vittorie portano i due punti due punti importanti per la squadra oggi c'è ancora da lottare sono due match rimasti molto molto duri e sono contento perché sono di nuovo in squadra sono contento perché ho sentito le emozioni delle persone perché i miei compagni urlavano il mio nome perché ci siano come ho detto i miei genitori sono contento perché sono in una fase molto bella della mia carriera della mia vita e quindi contento una domanda che asola un po' dalla delis volevo fare una domanda sul reversion da quando lavori con Roy che volevo sapere lui come ha provato a impostare questo colpo perché sappiamo che è un colpo un po' anonimo lo ha giocato tantissimo lo sarà esso meno top skin e si dice sempre no quando si prova tanto a migliorare il colpo di relativa debolezza magari si può perdere qualcosa dall'altro punto di vista lui che cosa ha detto state provando a fare una crescita dal punto di vista termico in quel colpo oppure continui a lavorare duro sui punti di differenza no lavoriamo sul tutto non c'è una priorità diciamo assoluta su un colpo sull'altro però devo dire che ho fatto un ottimo lavoro sto facendo un ottimo lavoro sia con lui che con Alessandro perché dalla parte del rovescio è importante sentirsi sicuri e secondo me il passo in avanti più importante è quello della risposta non ho risposto veramente tanto con la seconda di rovescio in passato facevo più fatica stiamo lavorando molto su sentirmi più fluido possibile per cercare di guadagnare in lunghezza lo slice sarà sempre lì perché è un'arma molto importante soprattutto oggi per esempio con un giocatore che piace giocare di ritmo nei momenti giussi senza abusarne è stata un'arma fondamentale però no sì in passato devo dire la verità c'erano stati dei periodi soprattutto quando ero più piccolo Vincenzo mi diceva il servizio è dritto deve essere proprio precisissima deve essere proprio le tue armi e poi c'è stato un altro periodo in cui abbiamo lavorato tantissimo su rovescio ma devo dire che da quando lavoriamo insieme con Francisco e con Ale mi sento molto meglio perché abbiamo trovato appunto delle chiavi di movimento del corpo e non solo delle braccia che mi aiutano a sentirmi più solido poi è ovvio che non sarò mai al bandiano però secondo me ci sono stati dei movimenti veramente importanti grazie 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 a tutti.